Però c'è anche un amico cantante che fa una sorpresa dopo lei, dove è lui? O prima di lui? Ma chi è il cantante? Allora, invito al palco la mia amica Niusa Costa, direttamente di Salvador di Bahia, con tutta la sua grucia. Lei porta il cuore della Bahia, lei canta i suoi brani e sono molto onorata di averte qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Il mio cuore di fare, io sento tuo futuro Ecco a lei, ecco a lei Ecco a lei, ecco a lei Ecco a lei, ecco a lei Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.